salve a tutti sono il professor francesco samani e come promesso voglio ringraziare gente comune per l'articolo istruzione a distanza all'aiuto dei canali educativi di youtube patrimonio da sfruttare il professor francesco samani e io sono felice che oltre ad avere sicuramente tanti colleghi e futuri insegnanti che dimostrano continuamente con dei commenti estremamente gratificanti l'aiuto che il canale francesco samani che i video stanno dando alle persone che si stanno preparando al concorso che si stanno preparando per avere una propria formazione personale ringrazio quindi tutte queste persone sono felice e ringrazio insomma anche questa testata giornalistica per aver scritto l'articolo voglio fare un video breve vabbè qui parla non so se hanno scritto esattamente chi sono ma ve l'ho già detto in in altri video io sono un professore di ruolo che ho vinto diversi concorsi vabbè mi sono laureato in ingegneria meccanica ho preso una laurea magistrale successivamente lavorando come ingegnere non mi sentivo felice al cento per cento perché amavo l'insegnamento devo dire che in realtà i miei genitori erano entrambi insegnanti i miei zii alcuni dei mezzi erano insegnanti i miei nonni erano insegnanti i fratelli di miei nonni erano insegnanti diciamo salvatore samani mio nonno scritto dei libri peraltro importante ha fondato anche lui era istriano viveva a fiume ha fondato anche un museo istriano insomma dei fiume ha scritto dei libri in relativi insomma a questi eventi diciamo che ormai sono è circa un secolo che la mia famiglia per generazioni è stata insomma coinvolta nell'istruzione nell'insegnamento io sarò sono però il primo ad essere diciamo ad essermi preparato nell'ambito scientifico perché un'altra caratteristica che è importante insomma dire perché probabilmente questa caratteristica mi ha influenzato è che sia mia madre che mio padre che tutti i miei parenti erano insegnanti di lettere chi di filosofia chi di lettere storia quindi diciamo che io sicuramente questo aspetto lo ha preso tanto sono una persona che a livello umanistico ama tanti ama tanto insomma una gran spero di avere una grande sensibilità e per tanti anni io sono stato anche concertista di pianoforte però al tempo stesso come capita a tutti coloro che si incamminano verso un processo di crescita personale e professionale il tempo per dedicarmi al pianoforte è divenuto sempre meno e quindi poi alla fine ho fatto da cioè ho smesso di lavorare come ingegnere ho vinto il tfa su materia mi sono abilitato alla materia ho vinto il concorso docente sono diventato di ruolo ho vinto il concorso dfa mi sono preso la specializzazione in pedagogia e sostegno e ho vinto il concorso successivamente per all'università per fare ricercatore e però insomma continuo ad amare ricercatore in che ambito nella robotica essenzialmente mi occupo di mani robotiche e service space robot ossia robot di servizio di ambito spaziale questa diciamo queste sono le mie generalità e più che lezioni a distanza sono video io non faccio a distanza adesso in molti di voi me l'avete chiesto non faccio preparazione con video lezioni a distanza ma essenzialmente faccio e delle lezioni generalizzate cioè più o meno specifiche però generalizzate per tutti e non specifiche per una persona in particolare molti di voi mi chiedono delle di fare degli approfondimenti relativi a delle questioni e io mi disegno sulla mia agenda e piano piano cerco di esaudire le richieste dice l'evoluzione esplosa improvvisamente su youtube devo dire che è vero in tre mesi vi siete iscritti in 4000 ma gli iscritti sono solo il 30 per cento di quelli che seguono il canale non ho tanta familiarità con youtube però la maggior parte dei canali hanno circa un 70 80 per cento di persone iscritte che seguono il canale probabilmente molti di voi usano youtube sporadicamente e quindi hanno deciso di non iscriversi oppure non hanno la possibilità di farlo perché credo ci voglia un account google e la cosa positiva in effetti che hanno scritto che anche youtube a questo punto anche il computer può diventare uno strumento per essere condotti ad esplorare le le conoscenze anche se a dir la verità la maggior parte dei miei video sono più per aspiranti professori o proprio comunque insegnanti colleghi come me ho fatto qualche video per gli studenti non avuto tanto successo smesso di farli infatti un motivo per il quale io continuo a fare video essenzialmente è grazie e soprattutto a tutte quelle persone che mi chiedono di farli perché se i video non avessero successo non fossero seguiti ovviamente non avrebbe senso investire il tempo né da parte mia né da parte vostra dei contenuti educativi dalla matematica alla scienza sì questo l'ho fatto in passato ma essenzialmente il mio canale devo dire che ha una connotazione più specifica per quanto riguarda anche il concorso 2020 per i docenti concorso che speriamo sarà espletato nel 2020 ma sappiamo bene che è possibile anche che venga insomma rimandato a termini e a date successive io vi ringrazio vi saluto e vi auguro una buona giornata se vi è piaciuto il video vi piace il canale vi piace insomma vi piacciono queste attività e volete nuove risorse mettete like condividete lasciate commenti e un caro saluto da francesco samani